Però, ecco, le giame non è andate, quindi le devo prendere tutte Ma adesso qui c'è una parte e qui ci sono questi strani condotti bianchi, che però, ecco, se vi becca alcuni farli, vi fumo fino a mangiarvi, quindi la strategia sarebbe quella di evitare di andarci sotto voi, ma di andare sotto i cosi, mostro, in questo senso, fanno sotto la sole anche, ecco, app! Sono molto utili quando ci vanno sotto i nostri, queste cose! Quanti sono? Ragazzi, tutti col potere del ruolo condotto che mi manda in pappa lo schermo! Ma, ha, l'ha colpito al volo! Dai, possiamo, dai, perché non mi mancano aperte le porte! Ciao, via gente! Adesso mi ammazzo! Ciao, via gente! Guardate anche voi che mi fregate il mana! Fa bene! Che è utile per ogni caso! E soprattutto dove state fuori! E' bella cos'è! C'è il popolo di mostri qui dentro! Un'altra parte! Eh! he! Eccolo! Ciao! Faccio! Fuori! 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 Eccolo! Ok, dai, 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 che velocizziamoci un po', dai. Fatto. Morto. Niosco a me di alzarsi, che triste. Oh, qui c'è solo di più, sono di non so quanti. E adesso vogliamo il grande stile di bestione. Vieni qua, vieni qui, vieni qui, vieni qui, vieni qui, vieni qui, vieni qui. Lo faccio ammazzare da uno dei fai raga lo ammazzo non è morto però fa bene Si grande ventista resta anche a te anche a te e non è me però Non è come il mio corpo senza essere fuita stavamo vedo tutte le copie di fulminate No io dico ben ormai che finiamo velocemente grazie fai che mi aiutate e non mi ingerzo più Adesso dovremmo essere arrivati alla fine Cioè alla fine Questo poi bisogna salire Che palle poi dopo quando dovremmo salire Che palle quando dovremmo salire Questi sono due cannoni praticamente questa quella è entrata della frontezza principale Su C'è Cineria E non la dobbiamo usare Preferibilmente ammazzate prima per tutte queste bestie belle Muori Muori Non muori Non so Non so Non so Prendete il monstro Sono bianco Ma appunto si chiama Blade Blizzard Aspetta di gatti Pam ti vanno indietro il monstro Eh Dai che tu sei l'ultimo Se vuoi si muore Prendete la capata che vuoi che te la scimmia eh Non è che avessi questi gran problemi Non lo so Io Così Se cerchiamo Che sei l'ultimo Un'energia del ghiaccio Probabilmente Ai andi molto attacito Alla prossima buona basta è ormai che soffiassi il teatro visto che il ghiato soffia no è morto è morto però è morto è morto è morto per caso che si è morta così stupidamente quando aspettate pronto non vai a pubblicità oh dai adesso dobbiamo farci la torre e poi abbiamo finito poi siamo da intus la sfida infatti adesso è mia tanti vattacinelli ma è più che altro di salire ha finito non si sa come il coso io lo devo alzare in stile decidete però ve ne vado ve ne indietro queste cose qui queste cristali qui sono le cristali che blocca l'ascensore se ne ammazzano tutti i nemici non saliamo adesso si sbloccano e noi dobbiamo distruggere distruggere di tutti rompi tutti i frammenti di cristallo per mettere in funzione l'ascensore e ora ci saranno tipo quanti tre parti che palle questo pezzo beh adesso mostro che vengo giusto se sto mettendo la prima parte non vorrei adesso tornare giù a prendermi ecco adesso con le lì le gemme potete tornare giù a prendere ma non lo faccio perché non voglio implicarci tanti quindi abbiamo pure poco tempo adesso ok primo pezzo qui c'è la gente che è salita io mi sono andata a mezzare con un lato qui c'è la gente che è salita qui c'è la gente che è salita dovrebbe aver fatto sì ho fatto poi prendendo ve lo sì aspettate ciao ciao Grazie.